L'anno vecchio è passato, siamo arrivati al nuovo anno, che cosa vorrebbe chiedere all'amministrazione comunale? Inutile aprire tutti questi cantieri come hanno promesso fare l'altro, se abbiamo le strade tutte abbandonate, la segnaletica è un guaio. Io ho già segnalato da qualche giorno che in via Gobassi la vecchia linea ferroviaria che va su, che andava Urbino, che adesso è in disuso, però ci si passa con le bici, oramai sarà un mese che praticamente è caduta una specie di ringhiera, quella in ferro, inutile aprire cantieri, fare quello, fare l'altro, fanno cresce, fanno cresce, cresce da una parte e decresce dall'altra. Digiustare le strade, perché quella bicicletta rischia di cadere in diverse strade, ma ce n'è molto, no, da dire due o tre, poi ne fanno metà e metà no. Asfaltare le strade, soprattutto la zona di Sant'Orso, grazie. Mi è piaciuto molto la passeggiata romantica, hanno fatto delle bellissime cose, anche il sottopasso, del lido, hanno fatto dei bei lavori. Speriamo che anche il prossimo anno ci sia qualcosa di nuovo. Qualcosa da migliorare? Al momento no, dai. Dopo 30 anni erotti si occupassero di San Pietro, che lo fanno crollare, invece di occuparsi di 100.000 fregnacce in giro per la città, di cui, cioè è uno scandalo, credo che sia uno scandalo mondiale. La chiesa di San Pietro è la più bella chiesa barocca delle Marche, sicuramente una delle piccole più belle d'Italia. Sono quasi sei anni che è totalmente chiusa, non si apre neanche una finestra perché pare che si fossero persi il telecomando, ma comunque continua a non aprirsi. Adesso dovrebbe arrivare l'Università di Ancona per dire cosa occorre per sistemarla. A Fanno sono state fatte anche delle cose belle in questo 2022. Allora, questo momento non mi viene in mente, però probabilmente non mi ricordo, dato che vado invecchiando.